Presidente Coglie, allo scadere chiuderete a chiave il palazzo, tutti fuori? Questo l'abbiamo detto io e il Presidente Battista a Roma. O consegniamo le fasce al Presidente della Repubblica, lo abbiamo anche incontrato, il Presidente della Repubblica, abbiamo incontrato il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro Padovan, abbiamo incontrato tutti gli organi del Governo. Un'ultima riunione l'abbiamo fatta nella sede del Partito Democratico con il Ministro Martina. Noi siamo un organo dello Stato, siamo parte della Repubblica, il referendum costituzionale non è passato, oggi al pari di comuni e di regioni, noi siamo, in area metropolitana, siamo una parte costituente dello Stato. La battaglia è una battaglia lunga, oggi abbiamo avuto il primo successo, i bilanci sono stati prorogati al 30 settembre, il che significa che il Governo si è reso conto da queste valutazioni ricognitive, 1.368.000 euro in meno per poter pareggiare il bilancio come provincia di Senna e 4.400.000 per la provincia di Campobasso, due province che vanno in dissesto finanziario, ma non per nostre incapacità, per malagestio, semplicemente perché un prelievo forzoso da parte del Governo ci viene a prendere le nostre risorse. Io ho dato un dato, l'ho dato a Roma, lo do anche qui in Molise, noi siamo la provincia più piccola d'Italia, perché i Senna nelle regioni è statuto ordinario e la provincia più piccola. Da parte dello Stato abbiamo un'entrata complessiva tra le varie voci di capitolo di 9 milioni, abbiamo un prelievo forzoso di 8.700.000, praticamente il fondo di solidarietà nazionale per la provincia più piccola d'Italia è di 217.000 euro. Questo significa che non siamo assolutamente in grado, perché la popolazione è piccola, le macchine sono quelle, le imposte di trascrizione per le macchine e la tefa, la tassa sull'igiene ambientale è quella che è, quindi risorse proprie non ne abbiamo. I cittadini hanno bisogno di garanzie e la cosa che abbiamo scritto in questi decreti presidenziali che abbiamo fatto sia che Battista è che non siamo in grado di garantire l'esercizio minimo indispensabile dei livelli di servizio relativi alle funzioni fondamentali di nostra competenza. Non chiediamo altro che darci la possibilità di poter garantire la sicurezza stradale e la sicurezza ai nostri studenti delle scuole superiori. Tra l'altro abbiamo detto anche al governo che siamo la cassa che non costa, noi non costiamo nulla perché non abbiamo indenità, non abbiamo prebende, non abbiamo gettoni di presenza, non abbiamo rimborsi, ma i 69 milioni che hanno risparmiato tutti i presidenti, tutti gli assessori, tutti i consiglieri provinciali chiediamo che vengano restituiti alle province in termini di servizi ai cittadini. Quindi non una battaglia per noi, non una battaglia per la casta, ma una battaglia per la dignità costituzionale e per garantire servizi ed efficienza.